Gianluca, perché correre fa bene? Correre fa bene perché, come tutte le attività fisiche, migliora lo stato di forma del soggetto, anche lo stato psicologico, perché si affronta la vita in modo migliore. Soprattutto uno dei vantaggi della corsa è che ha basso impatto economico, nel senso che costa pochissimo e si può fare dovunque, a differenza di altri sport molto più esosi dal punto di vista economico.